Ciao ragazzi, siamo arrivati al momento del French e quindi vedrete la realizzazione del French in due sistemi se vi fa piacere continuate comunque il video il primo sistema è utilizzare comunque il French costruttore che non amo particolarmente e facendo il French inverso quindi noi abbiamo fatto il nostro cover e adesso andiamo a riempire la punta col bianco di certo dove c'è il muretto dovrà essere utilizzato molto più prodotto poi andremo a sfumarlo nel senso che andremo poi verso la punta col pennello inclinato ne metteremo di meno io utilizzo un pennello 3D come state vedendo dall'immagine mi preoccupo prima di posizionare bene il prodotto e di fare comunque il sorriso del French dopodiché andiamo a scaricare l'eccesso non è semplice da utilizzare e questo qua è anche particolarmente denso rispetto ad altri il trucco è lavorarlo il meno possibile non creare comunque bolle quindi lavorarlo delicatamente perché se si scoppiano le bolle si creano delle zone grigie quindi delle zone d'ombra e diciamo che questo è il sistema per far durare più a lungo un French bianco e rimane bello bianco, bello puro e quindi sull'anulare ho deciso di fare questo sistema appunto per farvi vedere la French inversa che avevo già realizzato in un altro video che vi linko qua sotto una volta che abbiamo fatto tutto coperto bene la punta sistemato tutto il nostro muretto dove c'è il French la punta i laterali mettiamo in lampada a catalizzare dopodiché sgrassiamo una volta che sgrassiamo essendo costruttore dobbiamo limare limare per livellare bene la superficie oltretutto non dobbiamo far vedere 800 milioni di gobbette mi raccomando è veramente molto importante limati sempre dall'esterno verso l'interno della superficie in modo arcato la parte sopra per non togliere comunque la struttura che abbiamo fatto quindi veramente molto molto importante e limate un po' con la punta sennò comunque andrà a spessirsi una volta che abbiamo limato fatto tutto e ci piace cosa dovete fare? adesso vi sto facendo vedere il più possibile la lima anche se la vedete veloce vedete comunque i movimenti e io tocco col dito la superficie per vedere soprattutto sentire se ci sono delle gobbette perché ogni tanto anche l'occhio non ti fa vedere alcune cose ma col tatto riuscirete comunque a notarle molto di più una volta che abbiamo limato tutto a posto e quant'altro prendiamo la nostra la nostra spolverina oppure la punta che io amo e vi ho getto mille volte di Enel Store per rimuovere comunque la polvere in eccesso andiamo bene a rimuoverla nei lati nella punta essendo tutto costruttore essendo tutta la superficie opaca va benissimo usare un ultra grosso come in questo caso che è quello senza dispersione di passione sulla superficie copriamo bene sigillando bene la punta i laterali e la nostra ricostruzione su quell'unghia è fatta finita se no c'è un altro sistema che è quello che utilizzo di più ovvero mettere comunque il bianco fare il french in questo caso bianco di qualsiasi colore dopo la bombatura quindi noi abbiamo fatto la nostra bombatura la nostra struttura e andiamo a utilizzare comunque il bianco è un gel color normale utilizziamo un pennello a punta sottile delineiamo il sorriso o meglio prima anche qua scegliete voi io mi trovo più comoda alle volte a riempire prima il french e sistemare poi il sorriso o fare viceversa l'altezza del french dipende esattamente da voi come più vi piace io onestamente alle volte perdigo quelle un po' più alte e alle volte un po' più basse diciamo che quella più bassa è più fine e avendo comunque utilizzato un cover sotto potete anche permettervi di farla più bassa è anche vero che se utilizzate un cover cover non si vedrà comunque nessuna crescita e lunetta bianca invece come in questo caso avendo utilizzato il cover refi che quindi non ha una coprenza al 100% dobbiamo un attimo non stare attente però tenete presente se comunque avete un french che vi dura 3, 4, 5, 6 settimane anche se lo fate alto dopo un po' non vi accorgerete neanche il french è molto importante anche se ultimamente non va tanto di moda è importante saperlo fare e questo è un mio piccolo suggerimento e consiglio ovviamente ognuno utilizza il suo sistema preferito basta che sia bello sorridente bello bello sorridente mi raccomando e una volta che abbiamo finito andiamo a sigillare ovviamente abbiamo fatto il french su tutte le unghie e andiamo a sigillarle tutte questa idea mi è venuta come realizzare il french visto che tantissime me lo chiedono e tante ragazze mi dicono che fanno fatica o non riescono a farlo o altre mi chiedono addirittura di utilizzare le lunette cosa che sconsiglio soprattutto nel gel o nel semi permanente ci serve tanta pratica e questo video può essere utile fatemi sapere appunto cosa ne pensate questo è il risultato finale del french fra poco vedrete anche la foto laterale della struttura che come vedete almeno a mio avviso non sono gonfie non sono tozze non sono grosse quindi diciamo sono abbastanza naturali diciamo che con un french più basso di certo sarebbero stati molto più naturali però a me piacevano comunque così fatemi sapere cosa ne pensate del video al prossimo un grosso bacio ciao ciao